Il Napoli non fallisce all'appuntamento con la vittoria. Al San Paolo gli azzurri di Sarri si impongono per 2-0 nell'andata del preliminare di Champions contro un Nizza che solo in due occasioni cerca di spaventare i partenopei. Vantaggio dei padori di casa al dodicesimo con la virma di Mortens sul cross di Amosic. Nel corso del primo tempo sia lui che insegna e sfiorano ripetutamente il raddoppio che giunge nella ripresa su rigore al venticinquesimo con Giorginio per atterramento di Mortens. I transalvini chiudono la partita in 9 uomini. Mecce di ritorno tra 7 giorni in terra francese. Stasera per l'Europa League andata del terzo turno preliminare playoff con la sfida del stadio San Siro tra il Milan e lo Scandia. Mimmo Siena, speciale News Web 24.